Ma sul pallotteggio non gli vogliamo dire niente? Grazie per essere qua e ho tempo per tutti, sono mezzo influenzato, più rimbambito del solito, però ho tutto il tempo a disposizione, non so se qualcuno è arrivato qua parcheggiandola Ferrari sul raccordo e poi arrivando in Panda, ci siete arrivati in altra maniera.